Siamo in Piazza del Cavour, allo stand del PD, anche voi qua in piazza oggi a parlare con i cittadini? Assolutamente sì, la nostra è una testimonianza, noi ci rendiamo disponibili a rispondere alle domande che i cittadini ci possono porre sulla gestione comunale, su come va l'amministrazione, su quali sono le prospettive, su quello che sta avvenendo insomma. Quindi noi siamo qui, siamo a disposizione dei cittadini. C'è un protocollo d'intesa, di che cosa si tratta? Questo protocollo d'intesa è un protocollo che è stato firmato questa settimana dal sindaco, con il rettore e la dirigente dell'ASL, il direttore dell'ASL, e riguarda praticamente il ritorno dell'Università Medica Vercelli. Praticamente da Novara ci sarà una laurea triennale in infermieristica e ostetricia, più un master di specializzazione, e questo porterà dai 50 ai 75 studenti nella città. In più ci potranno essere dei borsisti all'interno, nelle lauree praticamente triennali, che verranno assunti all'interno dell'Università. E sono più o meno nove posti di lavoro. Perciò in ogni caso noi anche come partito, quello che facciamo in città, stiamo cercando di riportare anche per un discorso di rivalutare il nostro ospedale, perché con una facoltà all'interno in ogni caso si rivaluta comunque l'ospedale. Di altre cose comunque all'interno della città ci sono i manifesti che abbiamo fatto, che sono quello che riguarda la diminuzione delle tasse sulle fasce deboli, che è stata portata praticamente a 15.000 euro, c'è l'esenzione IRPEF. Invece su quello che riguarda l'altro manifesto che abbiamo messo di questo mese, è quello che riguarda il nostro impegno sul togliere le slot machine dai locali. Praticamente l'anno scorso erano stati impegnati 250 euro per ogni esercizio che riconsegnava la licenza, quest'anno è stato raddoppiato a 500 euro. E' un piccolo passo verso la licenza commerciale che di sicuro uno guadagna di più con le slot all'interno, però è un passo anche per diminuire comunque la dipendenza del gioco d'azzardo che c'è. Ed è stato fatto anche un progetto direttamente con l'assessore di riferimento per la scuola all'interno delle scuole per cercare di togliere il problema del gioco d'azzardo sui minori. E dallo stand del PD in Piazza Gavù è tutto, restate sintonizzati con noi, verceliweb.tv